Hobby Show 2011, sono in compagnia del signor Antonio dello stand Filincanto. Cosa proponete voi in fiera oggi? Noi proponiamo una serie di articoli, cioè una vasta gamma, abbastanza varia. Da resine a ceramica, legno, plastica, pietre dure, cristalli svaroschi, resine con strass, nastri. Sono tutti prodotti per mettere ai vostri clienti di farsi da soli, soprattutto collane, immagino? Sì, gioielli di qualsiasi tipo, dalla collana al bracciale, all'anello. Oppure abbiamo, per quanto riguarda passamanerie e nastri, donne che fanno qualsiasi tipo di lavoro, di cucito, quindi pizzi, passamanerie. Oltre all'oggettistica per collane e così via, avete altri prodotti? Sì, abbiamo tutto quello che serve per confezionare le bomboniere, quindi dai nastri ai tulle a fiorellini e tutto quello che serve per il confezionamento di una bomboniera. Quali sono i vostri clienti tipici? Ovviamente sono donne, ma dove vi rivolgete voi principalmente? Cioè come un vostro cliente vi può raggiungere? Il nostro cliente ci può raggiungere prima di tutto in due punti vendita che abbiamo a Bustarsizio. Dove siete a Bustarsizio? In via Roma al numero 11, in una serie di fiere che facciamo durante l'anno, via internet. Vogliamo ricordare il vostro sito? Allora www.madreperlasnc.com